Di Honoré de Balzac, Eugénie Grandet, voce di Lorenzo Pieri. Capitolo XIX Quando il vignaiolo fu andato a letto, Nanon, in pantofole e senza far rumore, andò da Eugénie e le portò un patè fatto in casseruola. «Tenete, signorina», disse la brava donna, «Cournoie m'ha dato una lepre. «Voi mangiate così poco che questo patè vi durerà otto giorni, e col freddo che fa non c'è pericolo che vada male. Almeno non rimarrete a pane secco. Non è affatto sano». «Povera Nanon», disse Eugénie stringendole la mano, «l'ho fatto proprio buono, delicato, e lui non se n'è accorto. Ho comprato il lardo, l'alloro, tutto con i miei sei franchi. Sono miei, dopo tutto». Poi la domestica se ne andò, perché le era parso di sentire Grandet. Per qualche mese il vignaiolo andò sempre a trovare la moglie in ore diverse, senza pronunciare il nome della figlia, senza vederla, senza fare la minima allusione a lei. Madame Grandet non lasciava la stanza e di giorno in giorno il suo stato peggiorava. Niente fece piegare il vecchio bottaio. Rimase irremovibile, freddo e duro come un masso di granito. Continuò ad andare e venire secondo le sue abitudini, ma non balbettò più. Parlò di meno e si mostrò in affari più duro di quanto fosse mai stato. Spesso, facendo i conti, gli sfuggiva qualche errore. «In casa Grandet deve essere successo qualcosa», dicevano i crusciottiani e i grassinisti. «Che cosa è successo in casa Grandet?» fu la domanda di rito che si sentiva generalmente in tutti i salotti di Saumur. Egeny andava in chiesa accompagnata da Nanon. All'uscita, se Madame de Grosson le rivolgeva qualche parola, ella rispondeva in maniera evasiva e senza soddisfare la curiosità dell'altra. Non di meno, in capo a due mesi, risultò impossibile tenere nascosto sia ai tre Cruschaud, sia a Madame de Grosson, il segreto della reclusione di Eugeny. Arrivò un momento in cui vennero meno i pretesti per giustificare la sua continua assenza. Poi, senza che si potesse sapere da chi era stato svelato il segreto, tutta la città venne a sapere che dal primo dell'anno Mademoiselle Grandet era rinchiusa per ordine del padre nella sua stanza a pane e acqua e senza fuoco, che Nanon le preparava delle ghiottonerie e gliele portava nottetempo, e si sapeva anche che la giovane poteva vedere e assistere la madre solo quando il padre non era in casa. Allora la condotta di Grandet fu giudicata molto severamente. Tutta la città lo mise per così dire fuori legge, si ricordò dei suoi tradimenti, delle sue durezze, e lo scomunicò. Quando passava, la gente lo mostrava a dito, bisbigliando. Quando la figlia scendeva alla strada tortuosa per andare a messa o ai vespri accompagnata da Nanon, tutti gli abitanti si mettevano alle finestre per esaminare con curiosità l'atteggiamento della ricca ereditiera e il suo viso, sul quale erano dipinte una malinconia e una dolcezza angeliche. La reclusione, l'ostilità del padre erano niente per lei. Continuava a vedere il mappamondo, la panchina, il giardino, il muro e risentiva sulle labbra il miele che vi avevano lasciato i baci dell'amore. Per qualche tempo, ella ignorò le conversazioni della gente delle quali era l'argomento proprio come le ignorava suo padre. Religiosa e pura davanti a Dio, la propria coscienza e l'amore l'aiutavano a sopportare la collera e la vendetta paterne. Ma un dolore profondo faceva tacere tutti gli altri dolori. Sua madre, dolce e tenera creatura che si abbelliva con la luce che proiettava la sua anima, avvicinandosi alla tomba, sua madre deperiva di giorno in giorno. Spesso Egeny si rimproverava di essere stata la causa involontaria della crudele, della lenta malattia che la divorava. Questi rimorsi, per quanto placati dalla madre, la legavano ancora più strettamente al suo amore. Tutte le mattine, appena il padre usciva, ella accorreva al capezzale della madre e là Nanon le portava la colazione. Ma la povera Eugeny, triste e sofferente per le sofferenze della madre, ne indicava il volto a Nanon con un cenno, piangeva e non osava parlare di suo cugino. Madame Grandet era costretta a dirle per prima «Dov'è? Perché non scrive?» Madre e figlia ignoravano del tutto le distanze. «Pensiamo a lui, madre mia», rispondeva Eugeny, «e non ne parliamo. Voi soffrite, voi venite prima di tutti». «Tutti» significava lui. «Figli miei», diceva Madame Grandet, «non rimpiango la vita. Dio mi ha protetto, facendomi considerare con gioia la fine delle mie miserie». Le parole di quella donna erano sempre parole sante e cristiane. Quando, al momento di far colazione accanto a lei, il marito veniva a passeggiare nella sua stanza, ella gli fece nei primi mesi dell'anno gli stessi discorsi, ripetuti con una dolcezza angelica, ma con la fermezza di una donna, alla quale la morte prossima dava il coraggio che le era mancato durante la vita. «Signore, vi ringrazio dell'interesse che prendete alla mia salute», rispondeva quando lui le rivolgeva la più banale delle domande. «Ma se volete addolcire l'amarezza dei miei ultimi istanti e alleviare le mie sofferenze, perdonate nostra figlia. Mostratevi cristiano, sposo e padre». Sentendo queste parole, Grandet sedeva accanto al letto e si comportava come un uomo che, vedendo arrivare un temporale, si mette al riparo sotto una porta cocchiera. Ascoltava in silenzio la moglie e non rispondeva. Dopo che gli erano state rivolte le più commoventi, le più tenere, le più fervide suppliche, diceva «Sei un po' pallidina oggi, povera moglie mia». L'oblio totale della figlia sembrava stampato su quella fronte terrea, su quelle labbra strette. Non si commuoveva nemmeno per le lacrime che le sue risposte vaghe facevano calare sul viso sbiancato della moglie. «Che Dio vi perdoni, Signore», diceva lei, «come io vi perdono. Un giorno anche voi avrete bisogno di indulgenza». Dalla malattia della moglie non aveva più osato servirsi del suo terribile ta-ta-ta-ta, ma il suo dispotismo non era stato disarmato da quell'angelo di dolcezza, la cui bruttezza spariva di giorno in giorno, cancellata dall'espressione delle qualità morali che fiorivano sul suo volto. Ella era tutta anima. Il genio della preghiera sembrava purificare, annullare i tratti più grossolani del viso e la faceva risplendere. Chi non ha osservato questo fenomeno di trasfigurazione su dei santi volti, dove le abitudini dell'anima finiscono per avere ragione dei lineamenti più rozzi, imprimendo loro quella particolare animazione dovuta alla nobiltà e alla purezza di pensieri elevati. Lo spettacolo di questa trasformazione, compiuta dalle sofferenze che in quella donna consumavano i brandelli dell'essere umano, agiva anche se debolmente sul vecchio bottaio che tuttavia restava irremovibile. Se il suo modo di parlare non fu più sdegnoso, il suo comportamento era dominato da un silenzio imperturbabile che metteva al riparo la sua superiorità di padre di famiglia. Quando la fedele Nanon andava al mercato, subito le fischiavano alle orecchie lazzi e critiche sul suo padrone. Ma sebbene la pubblica opinione condannasse unanimemente papà Grandet, la domestica lo difendeva per amore della casa. «E che», diceva i detrattori del brav'uomo, «forse non diventiamo tutti più duri quando invecchiamo? E perché anche lui non dovrebbe indurirsi un po'? Smettetela con le vostre bugie. La signorina vive come una regina, sta da sola perché questo le piace e poi i miei padroni hanno i loro buoni motivi». Una sera, verso la fine della primavera, Madame Grandet, divorata dal dispiacere ancor più che dalla malattia, non essendo riuscita malgrado le sue preghiere a riconciliare Eugénie e il padre, confidò le sue pene segrete ai Crouchot. «Tenere una figlia di ventitré anni a pane e acqua!» esclamò il presidente de Bonfant. «E senza nessun motivo, ma qui si tratta di sevizie contro le quali ella non può invocare sia che in su...» «Via, nipote!» disse il notaio. «Lasciate perdere il vostro gergo giudiziario. State tranquilla, signora. Farò in modo che sia posto termine a questa reclusione fin da domani». Sentendo che parlavano di lei, Eugénie uscì dalla sua camera. «Signori», disse facendosi avanti con un incedere pieno di fierezza, «vi prego di non preoccuparvi di questa faccenda. Mio padre è padrone in casa sua. Finché vivrò qui, gli devo ubbidire. La sua condotta non può essere soggetta all'approvazione o alla disapprovazione della gente. Egli deve renderne conto solo a Dio. Io esigo dalla vostra amicizia il più profondo silenzio in merito. Biasimare mio padre significherebbe attaccare la nostra stessa reputazione. Vi sono grata, signori, dell'interesse che mi dimostrate, ma vi sarò ancor più obbligata se vorrete far cessare le voci offensive che corrono per la città e delle quali sono venuta a conoscenza per caso». «Ha ragione», disse Madame Condé. «Signorina, il modo migliore per impedire alla gente di chiacchierare è quello di farvi restituire la libertà», le rispose rispettosamente il vecchio notaio colpito dalla bellezza che l'isolamento, la malinconia e l'amore avevano dato a Eugénie. «Ma sì, figlia mia, lascia che Monsieur Cruciot si occupi di sistemare questa faccenda dal momento che egli garantisce un buon esito. Conosce tuo padre e sa come bisogna prenderlo. Se vuoi vedermi felice nel poco tempo che mi resta da vivere, bisogna a tutti i costi che tu e tuo padre vi riconciliate». L'indomani, Grandé, secondo un'abitudine che aveva preso dopo la reclusione di Eugénie, andò a fare quattro passi nel giardinetto. Aveva scelto per questa passeggiata il momento in cui Eugénie si pettinava. Quando il bravo uomo arrivava al grande noce, si nascondeva dietro il tronco dell'albero. Restava qualche minuto a contemplare i lunghi capelli della figlia e ondeggiava senza dubbio fra i pensieri che gli suggeriva la sua testardaggine e il desiderio di baciare la figlia. Spesso se ne rimaneva seduto sulla panchina di legno marcio dove Charles e Eugénie si erano giurati eterno amore, mentre anche lei guardava il padre di sfuggita o attraverso lo specchio. Se lui si alzava e ricominciava a passeggiare lei si sedeva tranquilla alla finestra e si metteva a guardare il pezzo di muro dal quale pendevano i fiori più belli dalle cui crepe uscivano i capel venere i convolvoli e una pianta grassa gialla o bianca un sedo che abbonda nelle vigne di Somur e di Tour un bel giorno di giugno il notaio Crouchot arrivò di buon'ora e trovò il vecchio vignaiolo seduto sulla panchina la schiena appoggiata al muro divisorio intento a guardare la figlia in che cosa posso servirvi Crouchot chiese vedendo il notaio vengo a parlarvi di affari avete da darmi un po' d'oro contro scudi no no non si tratta di denaro ma di vostra figlia Eugénie tutti parlano di lei e di voi di che cosa ci si impiccia il carbonaio è padrone in casa sua d'accordo il carbonaio è anche padrone di uccidersi e quel che peggio di gettare il denaro dalla finestra che cosa significa eh vostra moglie è molto malata amico mio dovreste consultare messier Bergeron è là in pericolo di morte se morisse senza essere stata curata come si deve voi non sareste tranquillo credo ta 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 sapete bene quello che ha mia moglie questi medici una volta che hanno messo il piede in casa vengono cinque o sei volte il giorno insomma grande fate come volete noi siamo vecchi amici non c'è in tutta un uomo cui stia di più a cuore ciò che vi riguarda perciò ho sentito il dovere di dirvi queste cose ora succeda quel che vuol succedere voi siete maggiorenne sapete come comportarvi fate voi ma non è per questo che sono venuto si tratta di qualcosa di più serio per voi forse dopo tutto voi non desiderate la morte di vostra moglie vi è troppo utile pensate dunque alla situazione in cui verrete a trovarvi di fronte a vostra figlia se madame grandet morisse voi dovreste rendere dei conti a Eugénie perché con vostra moglie siete in regime di comunione dei beni vostra figlia avrà il diritto di reclamare la divisione del patrimonio e di far vendere froidfond insomma lei succede alla madre dalla quale voi non potete ereditare queste parole furono un fulmine a ciel sereno per il bravuomo che non era forte in materia legale quanto lo era nel commercio non aveva mai pensato ad una licitazione perciò vi raccomando di trattarla con dolcezza disse Crusciò concludendo ma sapete che cosa ha fatto Crusciò che cosa disse il notaio incuriosito di ricevere una confidenza da papà Gonde e di sapere il motivo della disputa ha dato via il suo oro e allora era suo domandò il notaio tutti mi dicono la stessa cosa fece il bravuomo lasciando cadere le braccia con un gesto tragico e voi per una miseria riprese Crusciò volete mettere a repentaglio le concessioni che dovrete chiederle di farvi alla morte della madre ah voi 6.000 franchi d'oro li chiamate una miseria vecchio mio sapete che cosa verranno a costare l'inventario e la divisione dell'eredità di vostra moglie se Egeny lo esigerà quanto due o tre o quattrocentomila franchi forse non è necessario mettere all'incanto e vendere per conoscere il vero valore invece mettendovi d'accordo per la roncola di mio padre esclamò il vignaiolo che impallidi e si mise a sedere vedremo Crusciò dopo un momento di silenzio o di agonia il brav'uomo guardò il notaio e gli disse la vita è ben dura ce ne sono di dolori Crusciò riprese con un tono solenne voi non volete ingannarmi datemi la vostra parola d'onore che ciò che mi dite è nella legge mostratemi il codice voglio vedere il codice mio povero amico rispose il notaio credete che non conosca il mio mestiere è dunque vero sarò spogliato tradito ucciso divorato da mia figlia è l'erede della madre a che servono dunque i figli voglio bene a mia moglie per fortuna è robusta è una labertelier non ha un mese di vita il bottaio si battè la fronte fece qualche passo tornò indietro e gettando uno sguardo spaventoso a Crusciò che cosa si può fare gli chiese Egeny potrà rinunciare puramente e semplicemente alla successione della madre voi non volete diseredarla vero ma se volete ottenere una concessione del genere non trattatela male ciò che vi dico vecchio mio è contro il mio interesse qual è il mio lavoro liquidazioni inventari vendite divisioni vedremo vedremo non parliamone più Cruscio voi mi strizzate le budella avete ricevuto dell'oro no ma ho qualche vecchio luigi una diecina e ve li darò mio buon amico fate la pace con Egeny vedete tutti a Sommur vi danno addosso buffoni e via i titoli stanno a 99 siate contento almeno una volta nella vostra vita a 99 Cruscio sì è 99 disse il bravo uomo riaccompagnando il notaio fino alla porta di strada poi troppo agitato da ciò che aveva sentito per restarsene a casa salì dalla moglie e le disse coraggio mamma puoi passare la giornata con tua figlia io vado a foa fond fate le brave tutte e due è l'anniversario del nostro matrimonio mia cara moglie tieni ecco dieci scudi per il tuo repositorio del corpus domini è un pezzo che ne volevi uno regalatelo siate allegre e state bene viva la gioia gettò dieci scudi da sei franchi sul letto della moglie e le prese la testa per baciarla sulla fronte cara moglie stai meglio non è vero come potete pensare di ricevere nella vostra casa il dio che perdona quando tenete vostra figlia lontana dal cuore disse lei con impeto ta 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 disse il padre con voce carezzevole vedremo bontà del cielo e geni gridò la madre arrossendo di gioia vieni ad abbracciare tuo padre egli ti perdona ma il bravo uomo era scomparso se ne andò di buon passo verso i vigneti cercando di riordinare le idee scombussolate di buon passo di buon passo